Erano sotto i lastroni ma lì è sparito tutto. Nascosto sotto la vegetazione, arrugginito e ricoperto da graffiti più recenti, ecco quel che rimane del vecchio muro di Via Nelli. Siamo andati a rivederlo insieme all'artista padovano Gioacchino Bragato, il pittore naif che per primo, all'indomani della decisione del sindaco Zanonato di rigere il muro antispaccio, arrivò qui sul retro dei condomini Serenissima ed iniziò a dipingere su quei lastroni, come li chiama lui, che stavano richiamando l'attenzione dei media di tutta Europa. Oggi, 13 anni dopo la famosa estate del 2006, quando esplose la guerriglia tra spacciatori nigeriani e nordafricani, Bragato è tornato qui in Via Nelli, osserva le ruspe che ormai hanno già sbriciolato l'intera facciata della prima palazzina. Mi sono affacciato adesso in Via Nelli con lei. Le dico la verità, a vedere questo squarcio mi è venuto un colpo allo stomaco. Perché anche Via Nelli ha fatto un pezzo di storia, io me la ricordo Via Nelli, quando c'erano anche dei miei amici si hanno abitato. Bragato ricorda gli anni 70, quando il complesso Serenissima ospitava studenti e lavoratori, poi piano piano è stato conquistato dagli spacciatori che sotto gli androni di quei palazzi trovavano il giusto riparo per i loro traffici illeciti. Il maestro Bragato, nel 2006, armato di gessetti ad olio, scelse di disegnare dei fiori sul muro. Ho disegnato del grano, del frumento, del tricolore, perché voglio dire sì, la libertà, l'espressione della libertà, il dialogare con la gente, comunicare. Perché se noi ci seragliamo all'interno di una casa, delle nostre mura, oggi sono tutti condomini, non si conosce nemmeno. Un messaggio oggi nascosto dalla sterpaglia, ma più che mai attuale. Una grande tela che era nata da Manfrotto.